buongiorno a tutti oggi è domenica 12 giugno sono tornato su a faggi per vedere se tante volte ci fosse qualcosa che è veramente secco questa è una fungare dove se c'è un fugo è qui infatti questo che è il stavetino ecco è sanissimo stamane non è facile trovare un po' di funghi ma ci proviamo vai